Grazie a tutti. Con Stefania Rito, con Checco D'Amico, con Antietta Cintorrino, con Ghevano Scarcella, con Giorgio Foscolo, con Alessia Coledi, Domenico Vollino, Carmelo Campailla, Giovanna Tirante, Mariana Carbone, Melucia Attutis. Grazie a tutti. Siamo quattro gatti, tant'è che i vigili devono intervenire per far avvicinare le persone perché cominciano ad andare oltre le transenne. Io vi ringrazio tutti per essere qui questa sera, quest'onda che cresce ogni giorno di più, ogni giorno che ci avviciniamo al momento elettorale. Io vi ringrazio di essere qui tutti, i nostri amici, i nostri sostenitori. Saluto ancora una volta e ancora convintamente col cuore in mano i candidati di tutte le liste, i candidati al sindaco, i candidati al Consiglio Comunale, gli assessori delegati, gli assessori indicati, gli amici e gli altri comuni che sono venuti ad ascoltarci. Purtroppo questa sera noi abbiamo dovuto deludere i professionisti e la politica perché abbiamo avuto Ciccio, abbiamo avuto Stefani, abbiamo avuto Checco, gli altri giorni hanno parlato i nostri candidati. Con oggi hanno parlato otto delle persone che sono in lista con me e noi abbiamo dovuto deludere i professionisti perché anche questa sera accanto a me non avete trovato nessun megaleader, nessun parlamentare, nessun consigliere provinciale, nessun segretario o ex segretario di partito, nulla. Avete trovato Cambia Nizza e le persone in lista con Cambia Nizza, con i Nizzardi. Per quel che ci riguarda questa campagna elettorale la stiamo facendo così, parlando noi, raccontando le nostre idee, le nostre proposte, i nostri programmi, mettendoci la nostra faccia, quello che pensiamo, quello che vogliamo fare, i motivi per cui siamo in lista, per cui abbiamo scelto di esserci, i motivi per cui siamo in campo, i motivi per cui vogliamo cambiare Nizza. Ve lo avevamo detto e lo stiamo facendo. Campagna elettorale aperta su contenuti, senza padrini polici, alle spalle. Questo abbiamo detto all'inizio e questo stiamo facendo. Io voglio da subito togliere il dubbio a Matteo, a Matteo Franciglia che ieri è intervenuto a Nizza e voglio salutare un carissimo amico, un coetaneo, anche se lui qualche schiaffetto non ha dato, ma nell'amicizia è la cosa più grande dei comizi. Matteo, tranquillo, non mi posso offendere, soprattutto non mi posso offendere per le stupitate, onestamente, lo dico con grande sincerità. E ti do anche la mia sincerità e la mia solidarietà. Siamo coetanei. In questa storia dell'Udc a Nizza ci sei entrato da segretario provinciale e ne sei uscito da ex. Tutta la mia solidarietà, che ti devo dire, ci saranno nuove occasioni, non ti preoccupare. In questa storia mi sembra che sta tenendo la barra bella dritta sulla confusione. A parte lo studio di Matteo, dove ci siamo visti, che è davvero molto elegante, molto curato, molto ben tenuto. Vieni qua a Nizza e mi accusi di essere appiattito su Peppe. Tu. Che alle provinciali è in lista con Alessandro Di Tommaso. Tu, il segretario, l'ex segretario, che ha tra i propri iscritti, che vanta tra i propri iscritti, proprio il figlio di Di Tommaso. Sono nello stesso partito e io sono appiattito. Il figlio del capolista che dici di voler avversare. Boh, ci sarà qualche strategia sottile alle spalle, qualche cosa interessante. In questa storia, tra la lista di Mimma e quella di Peppe, tutti quelli che si sparlano, si ascusano, si rinfacciano, si rimbalzano, si tirano accuse incredibili, indicibili, attacchi inerrabili, colpi bassi, rivelazioni, rivelazioni annunciate, rivelazioni iposticipate. Tutte queste cose, alla fine, sotto sotto, gratta, 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 e poi trovi che c'è sempre qualche cosa che li tiene insieme, che li tiene uniti. Cateno e Peppe litigano di giorno e poi di notte si accordano. Tu mi dai un finanziamento tipista a me e io ti do i voti a te. Ah no, ottobre. Mimma attacca Peppe e poi si fa eleggere da Peppe all'Unione dei Comuni, la stessa Unione dei Comuni della quale la signora Brigandia ancora non ha parlato, perché, come diceva Peppe, finora i comizi sono andati a ruota, noi parliamo di debiti e loro ci seguono, noi parliamo di proposte e loro ci seguono e ora introduciamo il tema dell'Unione questa sera, così cambiamo un po' il registro e vediamo se sta fotocopiatrice la facciamo funzionare meglio. Mimma attacca Peppe e poi si fa eleggere all'Unione dei Comuni. Peppe attacca Mimma e però poi un suo consigliere in carica, come diceva giustamente Checco, all'ultimo minuto entra in lista con lei, senza niente smentire di tutto quello che ha fatto, votate in questi anni i bilanci, le istituzioni, tutto quello che contestiamo, c'è chi lo ha votato e c'è chi non ha votato, noi abbiamo votato no e contro e c'è chi ha votato e poi sono la stessa lista. Per liberare Inizza da Peppe, attenzione. E adesso Matteo, Matteo Franciglia, tessera dal partito di Alessandro, viene a Inizza e attacca a me, che sono candidato, attacca a me, che sono candidato contro Di Tommaso. Come ha detto Checco, lo stesso dottore Di Tommaso, che esercita così bene la professione, che ieri sera ha dato una pillolina giusta all'On. Ardizzone per fargli abbassare la voce, al momento giusto ha trovato la medicina per non farlo parlare. Voi l'On. Ardizzone lo conoscete moltissimo, è una persona molto carbata, un caro amico, io dopo il comizio l'ho incrociato ho avuto possibilità di salutarlo, l'ho sentito, il tono della voce era perfetto, ci siamo abbracciati, ha un limite, come tutti gli altri parlamentari che noi abbiamo scelto di non portare su questo palco, che si fanno vedere soltanto al momento delle elezioni. Poi ogni volta questi deputati ne vediamo più. Tutte queste cose che si rimbalzano tra di loro, questo groviglio di accordi, accordicchi, scambi, favori, cose, poi non parliamo dei favori e dei professionisti, degli incroci vari che ci sono nei vari settori, nei vari campi, nelle varie attività. E ancora questo. E niente, questi sono capaci di tutto ragazzi, vedete nei prossimi giorni quanto ci stupiranno, chi se non cuddurino e non cudduriare magari a noi, confondere e depistare, ma io dico, ma noi a Nizza ci meritiamo questo, vabbè che questo è l'anno dei Maya, ma proprio così dobbiamo finire quest'anno, proprio con questi dobbiamo finire, basta vecchia politica, basta, cambiamo aria nuova, visi nuovi, personaggi nuovi, basta. Io ho una certa ritrosia per carattere, chi mi conosce, a parlare dei miei fatti privati. Stavo dicendo una cosa che riguarda mia mamma, poi... E però questo lo devo dire a voi e a Carlo Gregorio, persona con cui non ho un rapporto frequentissimo, ho un'opinione positiva, cordiale, ho avuto modo di vederli in due occasioni in questa vicenda degli accordi a Cordini, Sigladi a Sant'Eresa, a Nizza, a Furci, questi strappati, ritorti, rivisti, insomma ci siamo visti in questa occasione. Una volta allo studio molto elegante di Matteo. e ieri ha legittimamente raccontato di questa telefonata che non gli ho fatto e io gli devo chiedere scusa, però qual è il fatto privato? Che non ho bisogno di qualche telefonata, io quando sbaglio so sbagliare benissimo da solo, non ci impressioniamo. Perché? E gli chiedo scusa dal palco, perché lo dovevo chiamare, perché come ho detto a lui in quell'occasione, io sono rimasto molto colpito da un suo libro, I Santi Siciliani, non so chi se lo ricorda, questo volume è molto, fra altre cose è ben fatto, e io l'avrei chiamato per averne una copia, tutto qua, perché me ne serviva una copia per il sindaco di Alcamo, perché mi serviva questa cosa, e gli ho detto ti chiamo domani per un fatto privato che appunto mettevo fuori dalla rirona, e poi mi scudai e non l'ho chiamato. Io gli chiedo scusa, se mi vuole fare dono di questo testo, lo darò alla persona che me l'ha chiesto ad Alcamo. Quindi insomma è un testo che è conosciuto in tutta la Sicilia. Per il resto delle cose io dico a lui e a tutti quanti, chi pensa male agisce male e vive male. Lascio a voi il retroscena, le ricostruzioni, le allusioni, i marchi ingegni, i sospetti, tutte le cose messe lì ieri, tra le righe, nella confusione. Certo che vivere così sospettosi e guardinghi deve essere una bella fatica, relax. Qua siamo all'elezione di Nizza, dobbiamo scegliere sul futuro di Nizza, gli intrugli, gli accordi, gli scambi, i posti, gli inciuci. Fateveli tra di voi, vedetevi da un'altra parte, se avete un'idea, una proposta, portatela, ditela, sentiamola, portate le vostre idee per Nizza, misuratevi su questo, sulle idee che avete, non su tutte queste cose che da giorni ripetete in maniera stancante e noiosa. Invece di tenere la gente quattro ore, o lancio, o friddo, a sparlare di me e della mia correttezza. E guardate che bella platea c'è qui questa sera, guardate quanti siamo, sentiamoci! Non abbiamo parlato dei comportamenti di nessuno e voglio tranquillizzare tutti, non inizieremo a farlo adesso, parleremo di Nizza. Se voi siete contenti così, proseguite, ne ho problemi. L'unica cosa che ho capito ieri sera, in maniera chiara, perché è stata detta, non perché è stata detta in maniera molto chiara, è la vera differenza che c'è tra chi sta su questo palco, qui accanto a me, e li voglio ringraziare come ringrazio chi è salito nei giorni scorsi, chi è stato con me negli incontri che abbiamo fatto in giro, in piazza, girando, incontrando le persone, perché incontrare, ascoltare, fa sempre bene, non c'è mai nessuno che ha già tutto in tasca o che sa tutto. L'unica cosa che io ho capito personalmente è che c'è una differenza tra chi sta su questo palco, dicevo, e quello che stanno sugli altri palchi, indipendentemente da dove si svolgono i comizi. A voi interessa arrivare secondi, noi puntiamo a vincere, anzi, noi vinciamo, vinciamo le elezioni a Nizza e cambiamo Nizza. Mimma, tu sei la capolista e ti domando, ma si può fare campagna elettorale a più riprese dichiarandolo sempre, che l'obiettivo è quello di arrivare ai secondi, di fare l'opposizione, di farla bene. Nel migliore dei casi, questa sarebbe l'ennesima conferma di un accordo con Dio Maso, nel peggiore dei casi è masochismo puro. Noi puntiamo a vincere! Prima di me sono intervenuti Stefania Ciccia e Checco e lo voglio dire qui dal palco a tutti quanti, lo voglio dire a Carlo, Carlo Gregorio. Checco è un amico mio, è un amico vero, è una persona con cui decliniamo il valore e la parola amicizia, una persona che, come ho detto di altri, posso guardare negli occhi ora e in qualsiasi momento non abbiamo bisogno di sotterfuggi. Io non devo prendere in giro Checco D'Amico, né lui deve prendere in giro me, perché c'è una cosa che è molto più importante delle elezioni di questo foglio della campagna elettorale della vittoria e che è il valore dell'amicizia che noi abbiamo messo in campo in questa lista, con questa lista, con le persone, con i sostenitori, noi abbiamo obbligato, vincolato, abbiamo scelto insieme e questo valore ci fa stare seretico, cordiali, tutte le decisioni che abbiamo preso le abbiamo prese insieme, con Checco e tutti insieme, tutte le decisioni che ha portato fuori Checco le ha portate perché insieme le abbiamo prese, anche quando abbiamo scelto in maniera sbagliata e abbiamo saputo per questo rivederci, perché i migliori errori sono quelli che durano poco, i migliori errori sono quelli brevi perché c'è il tempo di rivedersi e noi ci siamo rivisti non tanto per noi perché sarebbe stato facile entrare in una lista e andare a fare i consiglieri comunali, ci siamo rivisti per la nostra comunità, per Nizza, per cambiare Nizza! Avete sentito le nostre idee nei giorni scorsi, oggi sulle politiche giovanili, con Stefania, con i progetti cadenzati, scritti, con questi strumenti, con questi tempi, con l'acqua e la campagna, con la struttura mageriale del comune, di questo parliamo! E ogni idea non è un'idea a sé, non è un mondo a sé, non è una cartella a sé, è tutto in un progetto più grande, perché chi guarda fisso una stella perde di vista il firmamento e noi vogliamo guardare larghi, guardiamo a tutta la nostra comunità, a tutto il firmamento, a tutte le persone di Nizza! Noi abbiamo immaginato un disegno organico per la nostra comunità, per Nizza, per il paese di Nizza e per il nostro comprensorio, per il comprensorio della valle del Nisi, per rimettere Nizza al centro di una rete di relazioni che la faccia emergere, Nizza non è più conosciuta fuori, viene il presidente Lombardo, innaugra una strada e questa è la conoscenza che Nizza fuori, poi domani cambiamo partito, viene l'onorevole Naro, innaugra un'altra strada e questa è la dimensione che Nizza fuori, poi viene l'onorevole De Luca, innaugra col sindaco un'altra strada e questa è la dimensione che abbiamo, ma è questo il profilo, questo è il modo, questa è la modalità, questa è la dimensione che vogliamo dare a Nizza, noi no, noi no, sindaco di Tommaso, lei in questi anni ha tradito Nizza, l'ha tradita, lei in questi anni ha permesso che la sua comunità facesse dei passi indietro, sempre più grandi, sempre peggio, lei ha tradito Nizza e Nizzardi, per i suoi interessi, lei ha permesso che altri decidessero per Nizza, che altri decidessero per Nizzardi, lei ha rinnegato il ruolo di guida, di primogenitura che il nostro comune ha avuto per tantissimi anni, che per alcuni anni li hanno anche riconosciuto, oggi noi siamo a rimorchio, per noi decidono altri, Nizza non ha più una politica comprensoriale, mi ricordo che due anni fa, da consigliere dell'Unione dei Comuni del Nisi, io e Valentina Bricuglio Polò, eletti in quota minoranza, abbiamo fatto un'interrogazione al sindaco sulla politica comprensoriale, Unione, Gal, distretto, agenzia, non ho sentito dalla signora Brigandì, eletta dalla maggioranza all'Unione dei Comuni, una parola su questo argomento, non un argomento, poltrona e basta, poi silenzio. Noi andiamo a rimorchio e decidono gli altri, dicevamo. Nizza non è più protagonista nei piani di sviluppo del territorio, Nizza non ha praticamente più relazioni e contatti con nessun soggetto sociale, politico, economico, con l'università, con la Camera di Commercio, con l'associazione degli imprenditori, con l'associazione di categoria, con l'associazione di rappresentanza, ma avete mai sentito di un appuntamento al Comune, di uno di questi che fosse venuto qui, di uno di questi che noi abbiamo chiamato per dirgli vieni qui, abbiamo avuto notizia in questi anni di tutto questo? No. Taglio di nastro, strada e nuovo partito e si cambia, ricominciamo. soltanto e la storia del sindaco di Don Maso dimostra questo, soltanto l'esempio della zona artigianale e commerciale è palese, è sotto tutti gli occhi, sotto gli occhi di tutti. La zona artigiana e commerciale che sta nel programma del sindaco di Don Maso ma non quello di quest'anno, quello di quest'anno, quello di cinque anni fa, quello di dieci anni fa, quello di quindici anni fa, ne stampa uno per trent'anni, mi dicono dalla regia. La zona artigiana e commerciale l'abbiamo disegnata, l'abbiamo disegnata, l'abbiamo perimetrata e non l'abbiamo realizzata. Colpa del comune? Sì. Si poteva fare più, si doveva fare più. Colpa della regione? Sì. però eravamo sfortunati, quando siamo andati a Palermo eravamo nella settimana in cui stavamo litigati con l'assessore che ci doveva aiutare, quindi non ci ha potuto aiutare e poi democeno. Colpa del fatto che noi non siamo in una rete di relazioni sovracomunali perché come avevamo suggerito io e Carmelo Campailla al sindaco quando due anni fa circa questo argomento è venuto al Consiglio Comunale noi non il consigliere Brigandì che ha svolto il mandato di opposizione in maniera forte, ferma, violenta noi abbiamo detto al sindaco questo comune non ce la fare a realizzare la zona artigianale e commerciale non abbiamo le risorse è passato qualche giorno è passato qualche mese è passato qualche anno allora ti regaliamo un'idea gratis organizziamo un incontro con la Camera di Commercio visto che non riusciamo ad abbattere i costi per i nostri artigiani per i nostri commercianti per farli insediare lì visto che non riusciamo a trovare il bando della madassa qui da noi visto che non riusciamo a dare a loro la forza anche un sostegno degli sconti degli abbattimenti dei premi visto che tutto questo in testa non c'è venuto allora proviamo ad attrarre qua a Nizza soggetti economici proviamo ad attrarre qua a Nizza imprenditori proviamo a dire alla Camera di Commercio all'associazione degli imprenditori alla grande distribuzione guardate a Nizza c'è una zona che è vincolata come zona artigianale e commerciale investite nel nostro territorio in cambio noi vi garantiamo vi aiutiamo negli vostri investimenti l'illuminazione la strada i percorsi abbiamo fatto questo secondo voi il sindaco presa la nostra proposta la nostra idea dettaci qualche parola garbata bella bell'idea in consiglio comunale poi questa cosa si è concretizzata si è fatta ha avuto un seguito è uscita fuori alla stanza del consiglio comunale secondo voi sì o no ecco vedete questo è Nizza a livello comprensoriale noi noi stiamo io voglio dire perché c'è qualcuno in qualche lista che mi ha dato del secchione io sono secchione come se aver studiato con sacrificio è un limite insieme al programma che stiamo distribuendo e che trovate su internet ah vero non lo posso distribuire perché lo copiono grazie Francesco insieme al programma e vi faremo avere che vi faremo avere stiamo distribuendo anche questo dossier l'ho già detto a 390 perché qui tra di voi e non so tra di voi anche tra ragazzi e ragazze che vivono di Nizza ma che per motivi di lavoro sono dovuti andare fuori Nizza e sono tantissimi in queste settimane abbiamo lavorato a conoscere meglio Nizza abbiamo messo insieme i dati i numeri abbiamo studiato abbiamo ricercato abbiamo fatto la foto di Nizza questo lo trovate mortalità delle imprese nel comune di Nizza nel 2006 era al 4,8 cioè la percentuale delle imprese che chiudevano a Nizza nel 2006 era al 4,8 nel 2010 era al 7,2 incremento delle imprese o tenete conto che in provincia di Messina è al 5,3 cioè non è la provincia di Bolzano incremento delle imprese cioè imprese che sono nate a Nizza sindaco di Tommaso quante imprese sono nate a Nizza in questi anni lei lo sa? conosce questi numeri sa quali sono sa chi sono gli imprenditori che sono voluti investire a Nizza incremento delle imprese nel 2006 a Nizza il 3,4% c'era il 3,4% di imprese a Nizza che nasceva nel 2010 questo incremento è lo 0,4 il dato lo sapete chi ce l'ha dato? la Camera di Commercio non è un dato nostro non abbiamo così non siamo passati alla Carlona a chiedere alle persone per strada la Camera di Commercio lo 0,4 e per il mio amico Ciccio Bricuglio e Pippo Basile voglio dire che le imprese che stanno fuori dal settore agricolo sono soltanto il 5,7 tutto il resto è agricoltura pesca terra tutto il resto non abbiamo fatto nulla per investire nulla per migliorare nulla per crescere nulla per far crescere i nostri giorni le nostre intelligenze cosa che invece con questo piccolo libriccino abbiamo chiesto ai ragazzi ci aiutate ci fate vedere fate vedere soprattutto ai zardi per cosa per quali motivi cosa avete studiato cosa siete capaci di fare ecco è tutto qua se soltanto ragazzi e ragazze inizia fossero messe le condizioni di poter dimostrare di poter far valere quello che hanno fatto con i loro sacrifici loro e delle loro famiglie e allora questo comune volerebbe decollerebbe perché ora c'è bisogno di questo di pensare in grande di cambiare l'ultimo dato lo voglio dare ai nizzardi ed è un dato che i nizzardi conoscono il sindaco non lo conosce il sindaco non lo conosce e sono sicuro sono in buona fede perché se conoscesse questo dato si dimetterebbe subito non aspetterebbe la fine delle elezioni abbiamo il 425% di pressione fiscale il 425% lo sapete quant'è la pressione fiscale a livello provinciale non in provincia di Bolzano il 295% cioè noi superiamo il paese di Roccolumera di Alì di Furci di Antillo di Barcellona di 200 punti dimettiti dimettiti lei non è più in grado di proporre di assicurare a Nizza un ruolo che spetta questa comunità è utilizzata soltanto come carta di scambio per altro e per altri e se oggi siamo in questa condizione la colpa è solo vostra e il plurale non è utilizzato a caso è vostra di chi ha governato e amministrato questo territorio il sindaco di Tommaso e il sindaco di Luca sono loro che hanno governato da dieci anni che decidono per questa comunità per l'ex sindaco di Fiumini oggi per l'amministrazione occorrono strumenti nuovi sono accomunali che fino a fatto l'Unione dei Comuni che fino a fatto l'Unione dei Comuni e dei cinque anni che abbiamo votato io sono in Consiglio Comunale vi prego non mi mettete in imbarazzo a chiedermi a che punto siamo perché avrei difficoltà a spiegare tecnicamente se abbiamo una o due unioni perché non curiato così tanto fra statuti bocciati ammessi rivisti e corretti che l'ultima volta il segretario comunale si è dovuto arrendere ha detto aspetta Carmelo sbaglio ha detto non si è capito più niente meno male che nel frattempo è arrivata la finanziaria il governo Monti che ha resettato un pochettino e che ci ha buttato per qualche mese in avanti con questa scusa però ora in questi anni l'Unione dei Comuni che fino a fatto si è insediata e basta noi abbiamo guardato sempre con favore questi strumenti abbiamo portato i nostri emendamenti le nostre proposte sempre bocciate non abbiamo mai avuto una ostilità in una posizione strumentale perché ci serve una politica comprensoriale perché ci servono strumenti sovraccomunali perché da soli non si vive bene noi vogliamo una comunità coesa a Nizza e vogliamo che Nizza stia coesa con altri comuni che stia coesa nel comprensorio perché bisogna pensare in grande bisogna guardare avanti bisogna avere uno sguardo lungo non proiettato al giorno per giorno bisogna stare insieme e quindi ne cogliamo tutti le potenzialità i vantaggi le strutture e i finanziamenti Ciccio prima ha accennato al porticciolo volano di sviluppo storico volano di sviluppo del nostro comprensorio insieme allo svincolo stradale io non so quanti di voi e su questo chiedo un impegno a Mimma io chiedo un impegno a Mimma e un impegno al sindaco pro tempore cioè fino all'8 maggio il sindaco di Tommaso vi chiedo un impegno pubblico che è questo penso che tutti quanti noi abbiamo guardiamo diamo uno sguardo a 390 e questa presenza notevole della campagna elettorale di Santa Teresa io ho sentito il primo non ci volevo credere poi l'ho risentito con calma perché l'hanno replicato e quindi ho detto mi chiede aspettare fino all'uninotte perché lo voglio sentire il candidato sindaco al comune di Santa Teresa onorevole De Luca indicato assessore alle infrastrutture perché è assessore e si è scelto pure a delega in questo bar ha fatto la conferenza stampa io ero a casa sentivo al balcone gridava così tanto e lo sentivo al balcone il candidato sindaco al comune di Santa Teresa onorevole De Luca assessore del candidato sindaco Mimma Brigandì ha promesso garantito stragarantito a Santa Teresa che farà due cose che sposterà due cose dalla valle del Nisi alla Cro indovinate cosa sono porticciolo e sviluppo stradale queste due cose che noi dobbiamo fare qua che non state promesse qua che a ogni elezione ci vengono promesse l'assessore indicato di Nizza ha promesso che le fa a Santa Teresa allora è questa l'unione dei comuni è questo lo sviluppo del comprensorio è questa l'attenzione alla nostra realtà è questo l'impegno che mettiamo è questo quello che l'assessore alle infrastrutture di una e due liste vuole fare è questo che il sindaco di Tommaso vuole stare in silenzio mentre gli altri decidono se come e dove fare le opere mentre il nostro territorio viene mortificato con noi tutta Nizza fa un salto avanti tutta tutta Nizza si rigenera con noi tutta Nizza avrà nuove occasioni noi allarghiamo gli orizzonti non per presunzione ma per capacità perché ci stiamo lavorando perché ci crediamo noi allarghiamo il coinvolgimento lei sindaco restringe restringe sempre più il suo cerchio magico di affezionati si vede dalla squadra che ha messo in campo lei restringe provando a portare al comando del suo paese un gruppo sempre più ristretto di persone noi proponiamo a tutti a tutto il paese parliamo a tutti non abbiamo mai parlato soltanto ai nostri lettori parliamo a tutta Nizza noi proponiamo a tutti un nuovo civismo un nuovo impegno civile una nuova passione civile una vera partecipazione un coinvolgimento reale noi chiamiamo direttamente singolarmente i cittadini tutti i cittadini ad essere protagonisti di questo cambiamento di quello che stiamo già realizzando in questi giorni venite con noi cambiamo Nizza c'è nell'aria questa voglia c'è questa necessità c'è questa spinta la avvertiamo la sentiamo mentre giriamo la gente ci chiama ci coinvolge ci dice andate avanti non vi fermate di Tommaso ci siete ai tempi di Reagan e di Gorbachev di Bush e di Yeltsin di Franco e Ciccio dei Fratelli a Bagnale di Tangentopoli c'era la lira i cellulari non esistevano come posso coinvolgerti e spiegarti cos'è il wifi gratuito cos'è tutto questo avanti avanti come puoi pensare di portare Nizza nel futuro abbiamo idee idee concrete per iniziarti di oggi e per iniziarti di domani le trovate scritte tutte queste cose non sono cose a comizio c'è un progetto mi associo i creativi il festival della creatività tutte cose che si fanno non al nord Italia a pochi chilometri da noi tutte cose che qui sono possibili c'è un progetto per iniziarti di oggi e di domani una nascita a due arrivi che mette insieme nella nostra comunità la crescita del verde pubbio e la vivibilità per i bambini io non ho ancora figli spero di averne voglio che stiano qui a Nizza e che crescono in un paese vivibile ritirati fallo adesso il nostro gruppo è già pronto ad impegnarsi per Nizza noi non candidiamo un gruppo noi non candidiamo una persona sindaco non candidiamo un singolo noi candidiamo un gruppo scusate un gruppo che è già pronto le riviste in questi giorni a 390 un gruppo che è capace 15 persone che da subito dal 9 maggio sono già capaci di occuparsi di 15 problemi diversi di 15 settori diversi di prendere per mano questo comune in 15 diversi settori e portare a casa risultati da subito non abbiamo bisogno di un uomo solo al comando sindaco di Tommaso e non abbiamo bisogno di un uomo solo al comando non di Nizza signora Brigandì abbiamo bisogno di Nizzardi al potere di Nizzardi che decidono di Nizzardi che incidono abbiamo un'idea di Nizza bella forte e credibile lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo nel concreto alle 1 e meno un quarto mi hanno detto c'è la partita e bisogna chiudere abbiamo finito siamo tutti stanchi Ciccio mi picchia perché abbiamo chiudo 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 siamo pronti sai sindaco di Tommaso quanto sono i nuovi elettori a Nizza sai quanta gente vota quest'anno per la prima volta nel tuo comune te lo dico io lo diciamo noi 219 Nizzardi nuovi voteranno 219 di una nuova generazione 219 che noi ogni giorno non abbiamo che questa amministrazione non ha sotto il filo degli occhi non li vede 219 persone sono una comunità Rocca Fiorita ha 220 abitanti qui ci sono 219 persone che per la prima volta avranno la possibilità di avere una grandissima responsabilità che non è una responsabilità personale ma è una responsabilità collettiva è una responsabilità verso la propria comunità è una responsabilità verso il loro stesso futuro perché soltanto chi non guarda all'oggi non pensa al futuro e là ci sono 219 persone che sceglieranno che sceglieranno insieme agli altri chi farà il sindaco a Nizza che sceglieranno insieme agli altri quale sarà la squadra che cambierà a Nizza che sceglieranno insieme agli altri come sarà a Nizza il futuro io mi rivolgo a loro non per un appello generico non per un appello elettorale a 18 anni e l'anno di maturità ognuno è già maturo a 20 anni diceva Verga la scorsa è già fatta ciascuno ha già fatto la propria esperienza è già stata a scuola ha già fatto studi è pronto scegliete di cambiare la vostra comunità non scegliete di fermarvi adesso scegliete con noi Cambia Nizza grazie grazie a tutti grazie a tutti